Bentornati amici di MyFootballJersey. Oggi torniamo in Olanda per vedere una delle squadre che hanno per me un maggior fascino. Questa è la terza maglia dell'Ajax in edizione FAN. La terza maglia dell'Ajax 2022-23 fa parte della collaborazione con il marchio di moda Daily Paper con sede ad Amsterdam. Il colore principale della terza maglia è Savanne. È una tonalità color sabbia che sembra quasi oro. Adidas e Daily Paper usano il bianco come colore di accento principale sulla terza maglia dell'Ajax 2022-23. Viene utilizzato per il colletto, un semplice girocollo, le tre stripes poste sulle spalle, così come i loghi sul davanti. Ispirata al classico design delle divise da casa, la terza maglia presenta una striscia nera e rossa sul davanti centrale. Infine ci sono immagini sottili stampate sul tessuto. Mostrano nove diversi campi da calcio di Amsterdam. Uno stemma retro dell'Ajax Daily Paper si trova sul retro del colletto. Cosa ne pensate? A mio avviso questa è una maglia bellissima. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Una maglia con una qualità eccezionale, con tutti i colori giusti, con le patch attaccate nel modo giusto. Peraltro con una spedizione incredibile, con dei tempi di spedizione velocissimi. Questa è arrivata in 13 giorni. Il costo lo vedete qui sopra e vi ricordo include anche le spese di spedizione. Vi ricordo peraltro che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto un link per un coupon da 5 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti quali altre maglie vorreste vedere. Ora vi lascio la parte finale, ci vediamo dopo, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti!